Pasquale Biscotti ha solo 28 anni ma è a capo di un'azienda che da oltre un secolo garantisce la mobilità di persone a bordo di autobus, a cominciare dall'alto tavoliere per arrivare a coprire tratte internazionali che partono dal profondo sud e giungono sino in Germania. Nel 1929 la famiglia Biscotti ottiene la prima concessione per una tratta che va da Apricena alla stazione ferroviaria dello stesso paese. Da Tommaso che iniziò con la dirigenza a cavallo fra Vieste e Apricena dove c'era la stazione ferroviaria a questo Flixbus da 13.000 di cilindrata, due piani, tanti posti anche se in questo periodo qualcuno in meno. È il caso proprio di dire che di strada se ne è fatta parecchia? È proprio il caso di dire che ne abbiamo fatta di strada. Abbiamo fatto un percorso lungo che è partito dal nulla sostanzialmente ed è arrivato oggi ad una realtà che conta 70 autobus oltre 100 dipendenti e comunque è una realtà affermata e conosciuta non solo nel nostro territorio ma anche in tutta Italia e anche all'estero. Una delle vostre caratteristiche già da suo nonno e poi suo padre eccetera è quella di avere in house una serie di servizi. Sì, noi abbiamo sempre cercato di offrire ed avere dei servizi completi al nostro interno. Questo ci ha spinto non solo a tenere in casa tutto ciò che è inerente le parti meccaniche, quindi la manutenzione dei mezzi sia come meccanica che come pulizia che come riparazioni, ove possibile logicamente, ma anche a cercare di costruirci un qualcosa che potesse funzionare in ogni situazione, quindi senza dipendere eccessivamente da aziende o da fornitori esterni. La storia della famiglia Biscotti attraversa un po' l'intero Novecento con tutti i cambiamenti legati al trasporto e agli stessi mezzi di locomozione. È la storia di un Sud intraprendente, creativo, capace di cogliere opportunità come quella di unirsi a un brand internazionale come Flixbus. Tre anni fa il matrimonio con Flixbus. Cosa date voi come biscotti e cosa danno loro come Flixbus? Ciò che è stato innovativo del sistema Flixbus è proprio la divisione dei compiti, ovvero nel momento in cui Flixbus è un'azienda che si specializza nel commerciale, nella customer service, nel marketing, nel rapporto con la clientela e in tutto ciò che ne deriva, l'azienda di autobus, propriamente appunto azienda esercente servizi di trasporto persone, può concentrarsi al meglio, come è accaduto nel nostro caso, per migliorare la qualità dei servizi offerti e quindi concentrarsi, indirizzarsi in maniera specifica nel trasporto persone, che è la cosa che sappiamo fare meglio. Questi sono Euro 6 comunque e i vostri in particolare sono le linee per la Germania. Sì, allora noi abbiamo diversi tipi di servizi che partono dalla Puglia e partono anche da altre regioni d'Italia per collegamenti che servono i maggiori centri della nostra penisola. Abbiamo collegamenti giornalieri dalla Puglia per Roma, dalla Puglia per il Nord Italia, quindi anche nello specifico dalla provincia di Foggia, Cerignola, Foggia e Sansevero per Milano e Torino, dal Gargano per Roma e viceversa e il nostro core business, il nostro cavallo di battaglia è come ricordavi giustamente la nostra linea per la Germania. Noi colleghiamo tutti i giorni le maggiori centri della Calabria, a partire da Crotone, la Costa Ionica, la Puglia e anche altri centri come Pescara, Ancona, Rimini e Bologna, con le maggiori città tedesche fino a Francoforte. Un altro capitolo è quello del trasporto locale con l'azienda ACAPT, trasporto che riguarda i comuni del Nord Gargano più il servizio urbano di Manfredonia gestito con uno storico competitor. È sicuramente un mercato più stazionario, non è un mercato dove facilmente si attivano nuovi servizi. Nel corso degli anni, perché noi comunque facciamo trasporto pubblico locale in questa zona da sempre, noi prendiamo come data di riferimento il 1929, anno in cui ottenemmo la prima concessione per il servizio sostanzialmente di navetta tra la città di Apricena e la stazione ferroviaria di Apricena. Un altro settore, seppur residuale, è quello del noleggio con autista, particolarmente richiesto per le gite scolastiche, ma anche per occasioni conviviali e convegni. Ma l'apertura, che pare ormai imminente dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, per Pasquale Biscotti rappresenta un'opportunità o un ostacolo? Per noi quando aumentano le possibilità di mobilità della popolazione è sempre un vantaggio e mai uno svantaggio. Noi lavoriamo e siamo proiettati da sempre, parlo ovviamente delle autolinea a lungo raggio, cui la domanda farebbe riferimento, in un clima di concorrenza e di crescita del mercato. Infine, l'idea di un autobus attrezzato a piccolo museo. Sì, quello che abbiamo visto prima è effettivamente un reperto di archeologia industriale, potremmo chiamarlo. Prima le raccontavo che per qualche anno abbiamo avuto un'esperienza nella Carbus di costruzione autobus. Era anche questo il sogno di mio nonno, purtroppo, che ci ha lasciato da poco tempo e che vorrei anche ricordare. Questi mezzi noi li abbiamo tenuto per un motivo più sentimentale che altro, ovviamente. La mia volontà sarebbe proprio quella di rimetterlo almeno in sesto da un punto di vista visivo, interno ed esterno, così da poterlo esporre e così da poter dimostrare a chiunque venga a trovarci che anche qui ad Apricena per un breve periodo di tempo siamo riusciti a fare industria metalmeccanica e siamo riusciti anche a creare la bellezza dal punto di vista degli autobus. Per finire due novità estive, da giovedì 24 giugno parte il Flixbus Vieste Roma e dal 1 luglio quello Gallipoli-Torino.